Convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione presso l'Aula Consiliare della Comune di Agropoli per il giorno 30 dicembre 2021 alle ore 9 per la trattazione dei seguenti argomenti. Interrogazione ed interpellanza dei consiglieri Giuseppina Botticchio e Mario Pesca al Sindaco su eventuali novità sulla strada provinciale 184 Trentova. Interrogazione ed interpellanza del consigliere Giuseppina Botticchio al Sindaco sulla vicenda del mammografo. Approvazione dei verbali della seduta del 26 novembre 2021. Variazione di bilancio di previsione armonizzato 2021-2023. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per il pagamento di somme all'Avvocato Antonio Scuderi per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocinio legale. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per il pagamento somme agli eredi Avvocato Russo Pasquale per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocinio legale. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per il pagamento somme all'Avvocato Corvino Marilinda per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocinio legale. E infine ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Qualora tale seduta dovesse andare deserta, il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli il giorno 3 gennaio 2022 alle ore 9.30 per discutere lo stesso ordine del giorno.